Una partita fisica, muscolare e vissuta sostanzialmente su duelli e seconde palle. Il pari è giusto, rimane forse il rammarico di non aver sfruttato nel finale la superiorità numerica. Nel Teramo ben nove assenze, pesanti quelle di Bombaggi e Piacentini per la squalifica. Soprano causa infortunio, solito 4-2-3-1. Novità sostanziali, Trasciani nel cuore della difesa al fianco di Diachite, Mungo tra le linee, alle spalle di Pinzauti. Catanzaro privo di Carlini, match winner della sfida di andata, rientra in difesa l'esperto Martinelli. 3-5-2, l'abruzzese di Torano Nuovo, Alessio Di Massimo, in una posizione, se vogliamo, inedita. Mezzala sinistra, naturalmente con caratteristiche offensive, davanti il tandem Curiale-Evacuo. 73 anni in due, 34 Curiale, 39 Evacuo. Comincia meglio il Teramo, dopo tre minuti, rinvio corto di Martinelli di prima intenzione. Costa-Ferrera si coordina, tiro alto. 17 punizione dalla tre quarti, da Arrigoni a Costa-Ferrera che arma il destro, destinato all'incrocio, prodezza di Di Gennaro. Al 26 la risposta del Catanzaro Corapi, trascorsi nell'Aquila dal 2013 al 2015. Invito morbido, testa di Di Massimo, provvidenziale la respinta di Diachite. Versetto opposto, Mungo conclude, fallo di Scognamillo ammonito da Marimi di Trieste. La posizione più che privilegiata dal limite, Costa-Ferrera col Mancino, la palla si infrange sulla folta barriera calabrese. Il Catanzaro cresce nei minuti finali, spinge soprattutto sull'out di destra. Volè di Garufo, Trasciani ci mette il piede, poi la palla carambola sul braccio. L'arbitro lascia correre tra le vivaci proteste ospiti. Ripresa, due mezziali, Baldassin parlati per Curiale e Verna, sempre 3-5-2, ma Di Massimo in attacco a fianca Evacuo. Ventottesimo del Teramo, Chiarema Tengri in piazza Mungo, passano tre minuti. Scognamillo già ammonito, interviene così sul pressing di Arrigoni. Scatta il secondo giallo, Catanzaro in 10. Entra Riccardi, Calabro mantiene l'assetto iniziale, difesa 5, tre centrocampisti, il solito Evacuo riferimento offensivo. Nessun affanno all'ultimo secondo, Santoro riceve da Arrigoni. Con questo splendido destro giro per poco non fa saltare il banco. Ad un'unghia dalla vittoria il Teramo, ma risultato che non fa una grinza.